Ciao! Buongiorno, sono! Ciao! E quindi, per ogni, la struttura delle nostre case è piccola e singola, magari abbiamo il canicello, il gas e il peaglia, il telecav... Era interessante sapere cosa ne pensate. Mi piacerebbe un luogo in cui c'è proprio continuità, un trapasso di sapere di continuo che beneficia una comunità. C'è un centro permanente di cultura sui biomateriali e ultimamente sto vedendo esempi che stanno sorgendo. Una parte di argilla e tre parti di sabbia. Io consiglio di usare la terra per costruire. La democrazia diretta, i cittadini attivi, i animali, dell'arte nel futuro, come l'alimentazione, per questo che bisogna parlare delle intelligenze multiple. Sono venuta in questo open space per condividere le idee e ci siamo divertiti un sacco, abbiamo preso un sacco, mi credo che la transizione possa far ridere e divertire le persone a vedere da un'ottica diversa, per questo invece la transizione. Allora, sono qui in questa giornata dell'open space, della transizione perché penso sia una bella possibilità di conoscere gente che ci ha voglia di fare qualcosa assieme, di creare un futuro assieme. Allora, al momento stiamo come gruppo, abbiamo un orto condiviso vicino Monza. Stiamo, come dire, pian piano catalizzando altre persone, altre realtà. Stiamo cercando di creare una rete degli orti urbani della Brianza. Stiamo facendo degli eventi di sensibilizzazione sulla transizione, la permacultura, sulle variette tanti che parleremo di economia, insomma, un po' di argomenti che ci stanno a cuore. Poi dovremo essere bravi a catalizzare tutto questo fermento in qualche progetto concreto, un po' più lungo termine. Insomma, siamo in quella fase meravigliosa in cui si vede che sta nascendo qualcosa, che sono le bollicine che cominciano a salire. è molto molto stimolante. Gli stili di vita sono quello che fa la differenza. Il nostro stile di vita è stato sicuramente viziato da tante cose che abbiamo avuto a disposizione con molta facilità. La transizione la vedo come qualcosa di necessario per trovare delle soluzioni ai problemi che stiamo vivendo, è una società estremamente individualista. Spero che questo incontro generi un piccolo percorso, un piccolo grande, insomma un progetto vero. tra venti anni, tu quanti anni hai? Tra vent'anni? 26? Come sarà la vostra vita secondo voi? Come ve la immaginate? Bella! E dove vivrete? Lui lontano sicuramente da me. Io vorrei vivere in Nord America, oppure in Africa. provate a pensare il mondo come è fatto tra vent'anni. Più inquirato. E voi cosa piacerebbe? Più pulito. Più pulito. Più prati. Tutto con il prato. Tutti, tutti, vorrei che fosse tutto con i parco giochi. E poi con tanti alberi, con tanti boschi. E nessuna strada, neanche una minuscola che vada qua fino a questo tavolo fino a quell'albero. E neanche da, da, neanche piccolo che vada qui a qui. Guarda, non riesci neanche a metterci piede. Ciao!